Capitolo 2 E Jabez Wilson ci porse un foglio di carta stracciato agli angoli il quale portava queste parole La lega dei Roquin è sciolta 11 ottobre 1890 Il volto del buon uomo era tanto comico in quel distante che Holmes ed io scoppiamo in una risata Si tratta di ridere proprio così esclamò furibondo io perdo una bella situazione e ancora mi deridete Davvero mi aspettavo ben altra accoglienza Lo rassicurammo del nostro meglio Holmes si scusò dicendo che per nulla al mondo avrebbe rinunciato ad un affare tanto piccante Lo pregò di continuare la sua narrazione Quest'avviso mi gelò e gli riprese mi ero abituato alla mia nuova esistenza ed ecco che ora tutto finiva Scesi dal proprietario per chiedere che cosa era avvenuto dell'uomo dei capelli rossi Duncan Ross, suo locatario Duncan Ross, egli mi rispose Voi volete dire William Morris, il sollecitor Si è ora trasferito nel suo nuovo appartamento 17 Kingsby Road Corsi all'indirizzo indicato, era una fabbrica di denti artificiali Naturalmente non vi si conosceva né Morris né Duncan Ritornai a casa per consigliarmi con Vincenzo Nulla egli pote dirmi se non che pensava avrei avuto presso notizia di tutta questa faccenda e che il prossimo corriere non poteva mancare di portarmi una lettera Allora inquieto o malcontento, signor Holmes, io venne qui da voi a chiedervi consiglio Avete fatto bene, riprese il mio amico La vostra storia mi interessa vivamente e sarò felice di occuparmene Del resto, credo, da quanto potei comprendere, che qualche grave impresa si stia macchinando e che mi avete messo sopra delle tracce serie Di fatti non dovete lagnarvi dell'avventura Vi procurò trenta buone lire in oro e di più voi sapete minutamente tutto quanto Nell'enciclopedia incomincia in A È vero, ma desidero andare al chiaro di questa cosa A quale scopo quella gente si prese giuoco di me? Perché mi hanno prescelto per mettermi poi alla porta? Questo cercheremo di spiegarcelo E anzitutto, da quanto tempo avete voi quel commesso, Vincenzo Spaulding? Da un mese Si presentò in casa mia in risposta a un annuncio che avevo fatto comparire in un giornale quotidiano Sono venute dodici o quindici persone Ma Vincenzo mi piacque Era giovane, aveva l'aspetto intelligente E poi acconsentiva a non ricevere che la metà del solito salario Che uomo è? Piccino, alquanto forte, molto svelto, in berbe Con una macchia di rossore sulla fronte Durante la vostra assenza ha condotto bene i vostri affari? Perfettamente, i clienti sono contenti di lui Queste indicazioni mi basteranno, signor Wilson Lunedì, vale a dire fra due giorni, voi saprete l'ultima parola di questa storia E quando il buon uomo ci ebbe lasciati Holmes prese la pipa, la colmò di tabacco L'accese coscienziosamente E lasciandosi cadere in un seggiolone Mi pregò di lasciarlo riflettere tranquillamente Tre quarti d'ora gli bastavano Vi fu un istante in cui lo credette addormentato Con le gambe incrociate e ripiegate verso di sé Pareva sonnecchiare Di repente, quando il tempo che si era fissato era trascorso Si scosse bruscamente Ed alzandosi di un balzo Andò ad addossarsi al caminetto Sarasate suona questa sera al St. James Hall Volete accompagnarmi? Ci farà bene udire un po' di buona musica E poi, quel diavolo d'artista Sa tanto bene far dimenticare la bestialità umana Passando, andremo dal nostro Wilson A Sakscobor Square La bottega del prestatore Era, come lo immaginavamo Una stamberga smarrita in un cantuccio della Square A mattoni rossi Con le finestre ornate di qualche pianta Illanguidita dal fumo Sherlock esaminava tutto attentamente Ispezionò la via Per ritornare ancora dinanzi alla povera bottega Finalmente si avanzò fino alla porta Picchiò forte il suolo Con l'estremità della sua canna E a più riprese E dall'esterno chiamò nell'interno della bottega Un giovanotto comparve subito Scusate, disse Sherlock Potresti indicarmi il più breve cammino Per recarmi a Windmill Street? Nessuno ha saputo rispondermi La terza via a destra La quarta a sinistra Riprese l'impiegato richiudendo la porta Perbacco Non è stupido questo ragazzo Mormorò il mio amico inchinandosi L'ho incontrato in qualche luogo E so quanto volevo sapere Che cosa? Chiesi Ho veduto le sue ginocchia Sì è così Proseguì parlando fra sé Dopo il prestatore c'è un libraio Poi un bar Poi lungi la banca suburbana E per ultimo il noleggio di vetture Ora non abbiamo che il tempo Di recarci al concerto Seduto su un seggiolone di St. James Hall Holmes ascoltava ora il canto Del violino di Sarasate Il volto era irradiato da un sorriso E la mano seguiva il movimento Indiavolato del musicista Il suo alter ego trionfava L'artista pareva avere in lui Soffocato il questore Quando egli si abbandonava alla musica O alle sue ricerche chimiche Lo faceva con passione tale Che ogni altra preoccupazione Era bandita dalla sua mente Sentiva il bisogno di queste distrazioni E ne usciva fortificato Riposato E si rimetteva al lavoro Con un ardore temuto Per coloro dei quali Voleva sconvolgere le mene criminali E' molto seria questa storia Della lega dei Rockin Mi disse uscendo Speriamo di pervenire Volete prestarmi il vostro concorso Questa sera Watson? Avrò bisogno di voi verso le dieci Certo Allora non dimenticate il vostro revolver Arrivederci Andandomene cercavo alla mia volta Di capire qualche cosa Da quel tenebroso affare Mi sentivo tanto ottuso Tanto volgare di fronte a Holmes Avevo come lui occhi ed orecchi Sapevo vedere ed udire E però nulla io avevo veduto Nulla udito Soltanto quel piccolo Vincenzo Mi imbrogliava Egli doveva rappresentare Una parte importante Nel dramma che si preparava Fui esatto al rendezvous A Baker Street trovai Holmes Che discorreva con due nuova arrivati Nell'uno riconobbi Peter Jones L'agente di questura L'altro lungo e scarno Mi era sconosciuto Mi fu presentato come un signor Meriwether In cammino ora Concluse Holmes E tutti e quattro scendemmo Peter Jones mi si era avvicinato Mi narrò tutta la fiducia Che egli aveva nel mio amico Il suo modo di procedere Lo intricava un po' Ma perché riusciva quasi sempre Non si poteva che ammirarlo Andiamo verso una rude caccia Questa sera Egli proseguì Si tratta di prendere Uno dei più brillanti Nostri bricconi John Clay Il più abile dei nostri ladri Falsari, banditi Del resto Perfetto uomo di società Nipote di un duca Allievo egli stesso di Eton E graduato di Oxford Dotato di cervello agile Quanto le dita Anima nobile Perché organizza Delle sottoscrizioni Per dotare Istituzioni benefiche Dopo aver svaleggiato Il palazzo Di un pari del regno Son cinque anni Che seguo le sue tracce E non lo vidi mai Ma Holmes Aveva frattanto Chiamato due cabs Salì con lui Nel primo Mentre i nostri due compagni Si introducevano Nell'altro L'amico mio Quella sera Era di umore Poco comunicativo Si accontentò a dirmi Che quel signor Meriwether Era il direttore Della succursale Di una gran banca Interessata nell'affare E che non aveva Accompagnato Peter Jones Che per procedere A un arresto legale A Farrington Street Scendemmo dinanzi A una porta bassa Il signor Meriwether Si arrestò Invitandoci a seguirlo Attraversamo Un lungo corridoio Chiuso Da una porta di ferro Indi uno stretto Passatizio Giù di qualche gradino Un'altra porta Ci arrestò Il signor Meriwether Accese una lanterna cieca Aprì il cancello E ci precedette In una sala bassa Selciata E in gombra Di massicci coffani Nulla a temere Né sopra né sotto Bisbigliò La nostra guida Picchiando il suolo Con l'estremità Della sua canna Ma il suolo Suonò vuoto Attenzione Mormorò Holmes Potreste mandare In aria La nostra impresa Signor Meriwether Vi prego Sedetevi sopra Una di queste casse E lasciatemi agire Così dicendo Holmes Si era inginocchiato In terra E col fanale In mano Esaminava le fessure Del suolo Abbiamo un'ora Innanzi a noi I nostri furfanti Nulla potranno fare Prima che Wilson Si sia messo a letto Allora Andranno subito A mettere in opera Il loro piano Domani è domenica E se si riescono Sono sicuri Che nulla verrà scoperto Prima di lunedì Sì E abbiamo ogni ragione Di credere Che ci si rubi Il nostro oro francese Quale oro francese? Chiesi Sapete Come or Fra qualche mese Per consolidare Il nostro credito Noi dovremmo Chiedere a prestito 350.000 Marenghi Alla banca di Francia Somma Che ci fu subito Cortesemente data Ora Si seppe dal pubblico Che mai avevamo Aperte quelle casse E che si trovano Nelle nostre cantine Tal quale Le abbiamo ricevute Il coffano Sul quale Io sono seduto Contiene 300.000 lire in oro Chiuse Fra quattro strati Di piombo È una forte riserva Per una soccorsale E fumo avvertiti Come un colpo di mano Si preparava Per involarla Ora Interruppe Holmes Prendiamo Le nostre disposizioni Dobbiamo anzitutto Spegnere questa lanterna Il nemico È troppo avanzato Perché noi ci permettiamo La menoma in prudenza Mi terrò dietro Questa cassa E voi Imboscatevi Dietro quella Quando compariranno Proietterò su loro Un fascio di luce E voi Vi slancerete Dietro ad essi Non hanno che Una porta di uscita Dalla cantina Wilson verso lo square Apposta Ecco là Due agenti Disse Peter Jones Allora La rete è ben tesa Aspettiamo Spengo Tutto si avvolse Nelle tenebre Rannicchiato Nel mio nascondiglio Col revolver carico Innanzi a me Attendevo E i minuti Scorrevano lenti Come delle ore Di repente Una fascia bianca Come una linea Apparve sul suolo Si estese Si allargò Divenendo più lucente Indi senza rumore Un buco Parve formarsi E una piccola mano Delicata come una mano Di donna Comparve nel quadrato Della luce Indi tutto Ridivenne oscuro La mano sparve Il buco si richiuse Un minuto passò Un rumore sordo Fu udito Una delle pietre Sotto una forte spinta Girò sopra se stessa E si abbattè da un lato Lasciando un buco Spalancato Inondato di luce Una testa Comparve Piccina Molto giovane La quale Curiosamente Spezionò il punto Ove noi eravamo nascosti Delle spalle Uscirono Vidi due ginocchia Che vennero Ad appoggiarsi Sul limitare Dell'orifizio E porgendo la mano Al suo complice Rimasto a basso John Clay Lo aiutò a salire Un'altra testa Esangue Sormontata Da un ciuffo Di capelli ardenti Comparve alla sua volta Tutto va bene Mormorò Clay Non v'è nessuno Hai gli utensili Ah siamo presi Fuggiamo Holmes difatti Era sorto dal suo Nascondiglio Aveva afferrato il ladro Mentre l'altro Preso da Jones Riusciva a fuggire Scompariva dall'apertura Lasciando nelle mani Del poliziotto Le falde del suo abito Clay aveva puntato Il revolver Sull'amico mio Ma questi Col pugno suo D'acciaio Gli schiacciava la mano Inutile John Clay Vi tengo Di fatti Lo sento Riprese l'uomo Con una flemma Imperturbabile Ma almeno Il mio compagno Vi sfuggì Non temete Sarà preso Alla porta Vi avevo pensato La cosa fu preparata Meraviglia Abbiatevi I miei complimenti Ve li ricambio Per la vostra Invenzione Della lega De Reukin Ben macchinata Via In cammino Disse Peter Jones Vieni qui Che ti leghi Le manette Amico mio Ehi Rispose Clay Pallidissimo Cercate Essere più gentile Ho educazione E censo abbastanza Per aver diritto Ai vostri riguardi Benissimo Soghignò Jones Sono agli Ordini Di vostra Altezza E quando Ella vorrà Sarò felice Di indicarle Il cammino Della prigione Questo tuono Mi piace meglio Risprese Clay Vi seguo E curvandosi Con un saluto Schernevole Il giovanotto Sparve Dietro Il suo Angelo Custode Questa storia Mi ha molto divertito Concluse Holmes Quando tutti e tre Il signor Meriwether Ed io Ci ritrovammo In strada Questa lega Dei Roquin Era una trovata Mentre il nostro Gioielliere Copiava L'enciclopedia Gli seminava La cantina Quel bandito Ha del genio Peccato che si debba Chiuderlo ora Fra quattro mura Mi fece passare Qualche buon momento E mi tolse La triste noia Che mi logora Ora si deve Riprendere L'esistenza Quotidiana Ah Come la vita È stupida L'esistenza L'esistenza